Innanzitutto partecipiamo sotto una doppia valenza, partecipiamo come sezione turismo e partecipiamo anche come campazza. La volontà era quella di creare un contenitore che potesse dare opportunità a tutte le aziende del turismo, anche quelle magari un po' più piccole, di presentarsi a tutti gli associati di Confindustria, perché molto spesso si pensa di fare promozione estera, fuori dai propri confini e magari non ci accorgiamo che i nostri stessi colleghi, la stessa Confindustria non conosce bene le nostre realtà. Un bilancio su questa serata conclusiva? Direi ottimo, perché tante aziende hanno partecipato, direi che l'affluenza è stata più che ottima, i commenti degli ospiti sono positivi e quindi anche i riscontri delle persone che sono venute a disporre. Direi che è stato un bel successo, adesso aspettiamo il termine della manifestazione e ci aspettiamo qualche sorpresa in più.